Ciao, sono Martina, mi trovo a Mauritius, un'isola incredibile immersa nell'oceano indiano e ci torneremo insieme nel 2025. Eccoci, stiamo esplorando Mauritius per tornarci insieme nel 2025. Oggi piove un pochino, ma quale migliore condizione per osservare la foresta pluviale? Siamo a Cramba, è una splendida spiaggia dove si può trovare una splendida barriera coraltina.